In pratica, voi volete fare lo kick sulla gamba anteriore, però lo kick vi serve solo da finta per andare a colpire poi al corpo. Quindi che fate? Alzate il ginocchio verso l'avversario, come a tenere la distanza, e ruotate con il piede che va verso il basso. Quindi è tutta una finta e poi alzate il tallone per ricolpire. Ok? Quindi potete fare sia una prova, quindi a colpire la gamba, e subito dopo andate a fare lo stesso movimento, però andate a fare finta e colpendo subito la gamba. Ok? Quindi lentamente, uno, punta verso l'avversario, il tallone che va a colpire. Ok? Il piede non torta mai dentro. No. Il piede no, quindi uno, due, e andate. Ok? Quindi dall'altro lato. Quindi state qua, fai, finta di rubire, va a colpire la tibia, ok? Vado a ruoto e li alzo a colpire. Ok? Quindi scelto e li alzo. Ok? Provate. Ok?